Che palle di seri Scusa Ma quindi qua si deve vedere anche tutto brutto così Questa cosa Scusa Posso stare alle Y? No è classica Posso stare a Scampia? No Caserta C'è un copione? Allora Ferry Abbiamo tre video da fare Scegli in uno dei tre Perché io no? Quando avevo tipo 300 iscritti Che dicevo Wow che figata Wow cioè Wow se arrivi a 5000 Invece 5000 Non cambia un cazzo Ok abbiamo tre video da fare Oh ma posso bere? Ma prima quale vogliamo fare? Guarda 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 Ma l'ho appena Staccata E' riattaccata E' sparita adesso Però un po' intenso Così Vai Ok Ci ha mandato una lampada Vai vai Oh l'ho comprato Tocca a metterlo ogni tanto nei video E sta cambiando colore E non l'hai bloccata Allora Abbiamo deciso di farvi vedere Uno dei prodotti più belli Mai comprati finora Ve l'hanno regalata E' anche sporco Dove andarla pulita però Oh wow figo Guarda cosa ho messo Che? Parente l'ho fatto io No vabbè E' figo però Allora ok Allora no Cioè comunque noi come Abbiamo deciso di parlare di una lampada eh No in realtà non è successo niente Cioè Allora posso farti un esempio? Dai vai vai Ok allora No questo è per dire Sono cresciuto su youtube e su twitch no? Ma il mio portafoglio Ha subito variazione Se non in negativo Ma infatti sto continuando a essere tuo amico Perché ho detto dai Ha fatto 7000 iscritti Un botto di soldi Un po' di soldi O anche su twitch è arrivato a 2000 E quindi niente Mi sono dovuto fare Regalare e inviare cose E questa lampada è bellissima Vabbè E' figa Cioè è molto bella Può cambiare colore Tipo L'abbiamo visto Poi può fare così Ah è touch Vedi io Poi ci si spegge E' figa E' bellina La mettere sopra la schivania Cioè Tipo no Per fare un video così E poi niente Cioè puoi vedere una luce bella Dove ne ha schivania Te stai così Fai Poi do crop Poi vedete Dici oh bello sto colore Tocchi Lei si ferma Ma no quanto è bello sto colore Ma no Niente Quindi è una lampada molto figa Cioè Ma lì si vede Allora no Parlando seriamente È una lampada molto figa Che ho sempre voluto comprare Anche te In realtà Ma ne so Neanche io Cioè no Adesso in questo momento ancora no Però in realtà In realtà Se ci pensi Costa poco Costa poco Rifacciamo perché ho tirato su un botto di muro Però se ci pensi In realtà Costa poco E' per Ricky No Occhi 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 ha fatto una cosa carina Che palle Sono povero Ha rimboppato Se Jumbo e Luis Adessero un figlio autistico Puntini puntini Non serve che finisca la frase Già si è forte Ma andiamo 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 Dai dai We can do this Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti